Una sanità di prossimità, liste d'attesa ridotte e servizi di qualità. Si stanno vedendo già i primi risultati della maxiriforma attuata dalla Regione Marche. Dal 1 gennaio l'azienda ospedaliera Marche Nord verrà incorporata nell'assa di Pesero Urbino una delle 5 previste. Ma nel frattempo non si ferma l'innovazione con nuove tecnologie che possano garantire servizi più performanti per gli utenti. Questa mattina nel riparto di diagnostica per immagini del Santa Croce di Fano, dopo la benedizione del Vescovo Trasarti è stata inaugurata la nuova attacca Revolution Evo, un sistema che, come spiegato dal primario Rebonato, permette l'analisi della zona in esame su 128 strati e riduce la dose erogata al paziente. Inoltre è dotato di un software di intelligenza artificiale, grazie al quale utilizza fino all'80% in meno di radiazioni, ha una più elevata qualità delle immagini acquisite e rende più accurata la diagnosi da parte dello specialista. Una delle novità, dichiarato il direttore dell'azienda ospedaliera Maria Capalbo, consiste nella formula a noleggio per 7 anni tramite l'adesione ad un accordo quadro Consip. Il precedente macchinario era stato installato nel 2007 ed erano necessari 108 mila euro solo per la manutenzione. Oggi invece il costo è di 110 mila euro annui, comprensivi di manutenzione. Il direttore ha sottolineato anche l'investimento della regione negli ospedali di Fano, Pesaro e Muraglia. Nel 2022 sono stati stanziati oltre 17 milioni di euro, con una particolare attenzione sull'abbattimento delle liste d'attesa, grazie alle prestazioni aggiuntive in orario serale. Dopo gli interventi istituzionali è intervenuto Saltamartini, che ha fatto il punto sul lavoro svolto in atto e futuro, tra cui l'adeguamento dell'organizzazione alla domanda. Dal primo di gennaio è questa la sfida? Sì, la sfida è quella di far partire la riforma in modo tale che i pesaresi, la provincia di Pesaro, possano avere quei servizi che oggi domandano al nord, in Emilia Romagna e in altre aziende. Il sistema è molto semplice, occorre tener conto di qual è la domanda che viene formulata dalle prescrizioni di medici di medicina generale ad adeguare i reparti. I CUP verranno diametralmente smontati, per cui le risposte al CUP dovranno pervenire nella propria area vasta, quindi i cittadini di Pesaro dovranno trovare la risposta a Pesaro, i cittadini ad Ancona, quelli di Macerata, Macerata e così via. È una piccola rivoluzione che obbligherà le aziende a riorganizzarsi per dare la risposta nella propria provincia. Ma investirete ancora sulla formazione? Fra una settimana verrà approvato il bilancio della Regione Marche. Per il secondo anno finanziamo 150 borsi di specializzazione, 100 per i medici di medicina generale e 50 per gli specializzanti. Il che significa che il turnover, cioè il numero dei medici che vanno in pensione, sarà supportato dal doppio degli specializzanti che entreranno nel mercato. Il secondo investimento di ben 9 milioni, noi compriamo delle attrezzature per i medici di medicina generale che confluiranno in studi associati, i studi medici associati, e compreremo degli scanner per fare delle radiografie a casa, delle ecografie a casa, nuove tecnologie POCT per fare le analisi. Quindi cerchiamo di far sì che tutto ciò che può essere fatto non nel pronto soccorso, possa essere fatto appunto a cura dei medici di medicina generale. Anche in questo la Regione Marche è innovativa. Inoltre, ha proseguito Saltamartini, abbiamo aiutato con 9 milioni gli antigestori, come le case di riposo e le case protette, per far sì che le persone dimesse dagli ospedali per acuti possano trovare un posto. Insieme al personale sanitario potremo raggiungere questi obiettivi. Occorre dire e aggiungere a questo personale, che ha vaccinato le marche quasi 3 milioni e 800 mila marchigiani, che sono eroi, ma il loro eroismo deve essere riconosciuto a livello di trattamento. Non possiamo trattare ancora il personale sanitario con degli stipendi che sono molto inferiori a quelle che percepiscono i medici pensionati, per esempio delle cooperative. E penso che non ci dobbiamo dimenticare a Natale, che se saremo con i nostri familiari, i medici, gli infermieri stanno a lavorare nei loro reparti sottraendo affetti anche alle loro famiglie. Altra vera sfida, aggiunto Saltamartini, è che i riminesi vengano a curarsi nella provincia di Pesero Urbino e non viceversa. Entro la fine dell'anno, aggiunto, emaneremo un provvedimento per individuare i commissari delle 5 aziende e probabilmente entro la stessa data bandiremo il concorso per direttori generali, così da avere entro due mesi l'asset completo della gestione in tutte le aste chiamato a garantire questa sfida. Ho già detto ai medici che tornerò ogni mese qui a Pesero per verificare l'andamento e il progresso della riforma. Quindi se sarò in grado di mantenere questo impegno, evidentemente questa è una bella sollecitazione per tutti i medici e i primari che a Pesero hanno dimostrato, lo sottolineo, grandissima competenza e professionalità. Io sono veramente orgoglioso, dopo due anni di Covid, di potermi misurare insieme a loro in questa performance che deve mettere le marche e i servizi sanitari al primo posto.